A noi abbiamo fatto bene per un'ora e un quarto, poi gli ultimi 10-20 minuti dopo il pareggio ci siamo abbassati un po' troppo. Però la squadra dopo la sosta l'ho ritrovata bella tosta, bella decisa, dispiace per il gol preso, una serie di rimpalli. Però ha fatto una buona prestazione, bisogna essere contento. Noi su una punizione laterale che abbiamo liberato Fella dal limite dell'aria ha preso la gamba di un avversario. A noi chi si investe ha preso, ha preso testa per l'altra, la palla è schizzata di là. Purtroppo sono episodi, nel calcio ci stanno. Quello che mi è piaciuto è la reazione della squadra, la voglia di non perdere, la voglia di ribaltare il risultato. E poi abbiamo fatto anche delle belle azioni, delle belle situazioni. Dobbiamo guardare avanti, venivamo da una sosta e ora ci aspetta sabato una partita difficile con la cabeça.